Uova al funghetto, una ricetta di mia nonna, facile e davvero buona. Per prima cosa, lessa le uova in acqua bollente per 7-8 minuti. Nel frattempo, trita finemente un mazzetto di prezzemolo. Soffriggi 2-3 spicchi d'aglio tagliati a metà per qualche minuto. Togli l'aglio e aggiungi la passata di pomodoro e un po' di sale. Unisci una manciata di prezzemolo e un po' di peperoncino. Continua la cottura una decina di minuti finché il sugo non si sarà ristretto. Taglia le uova sore a metà e uniscile al sugo. Cospargi con un po' di prezzemolo e porta a tavola la padella. Buon appetito!